Ciao! Oggi volevo parlare del giorno dopo un'abbuffata, un episodio di abbuffata e vomito autoindotto. Volevo darvi dei consigli che con me hanno funzionato e penso potrebbero essere utili anche magari per qualcun altro che mi sta guardando. Allora, consiglio numero uno, sicuramente se se ne ha la possibilità, dormire. Perché ovviamente dopo che ci sia provocato il vomito si ha più necessità di dormire rispetto a una giornata come tutte le altre. E bisogna concederselo, bisogna concedersi quelle ore in più di sonno che poi garantiscono di affrontare di nuovo una giornata. Quindi sicuramente dormire il tempo necessario. Poi rispetto alla quantità di cibo da mangiare, dipende. Cioè nel senso se il vomito è stato per esempio una scarica, basta, magari ci si sente ancora pieni. Quindi non ci si deve obbligare a mangiare magari anche quando non si ha fame perché si pensa a mangiare per forza perché magari sono sotto peso. Secondo me l'importante è ascoltare il proprio corpo, ascoltarsi perché altrimenti se magari si mangia anche quando non si ha ancora il senso di fame, poi si rischia di riattivare quella molla o tutto, niente. Quindi sicuramente ascoltare il proprio corpo. E anche dal punto di vista della sete perché molto probabilmente avrete più sete rispetto a un giorno normale. Quindi bere di più ma molto importante bere lentamente. Bere lentamente perché si può rischiare se si beve magari velocemente di anche lì di riattivare la molla o tutto, niente. perché solitamente le persone che purtroppo hanno questo problema da tanti anni conoscono anche le strategie da mettere in atto per e potrebbe ricordare il fatto di bere tanto, qualcosa che non dovrebbe ricordare. E quindi riattivare la molla del fatto che poi dopo si scatena la buffata. E altro consiglio, sforzarsi di riniziare una giornata da capo. Cioè oggi è un nuovo giorno, di non pensare a tanto oggi sarà uguale a ieri. No, bisogna sforzarsi di riniziare la giornata come se appunto fosse una nuova giornata, piena di nuove possibilità, di nuove prospettive. Perché solo così poi si può affrontare appunto il giorno dopo. E dall'altro punto di vista accettare che è un giorno di recupero. Cioè se magari ho una necessità molto probabile di dormire di più, è ovvio che non sarò produttiva come una giornata in cui il giorno prima io non l'ho vomitato. Cioè se mi sveglio magari non so alle 10 di mattina e faccio un esempio, magari frequento l'università e mi autoimpongo molto probabile in una persona con delle mani di perfezionismo, di controllo pesante eccetera, di studiare boh 12 ore al giorno. Se inizio più tardi me lo devo concedere perché è una giornata anche di recupero. Cioè non posso essere, pretendere da me la stessa produttività in una giornata così che potrei avere in un giorno in cui sto benissimo e parte tutto in maniera senza problemi diciamo. È comunque un giorno di recupero, quindi devo accettare che magari sono un po' più lenta e questo mio accettare i miei ritmi diversi questo giorno mi aiuterà a iniziare domani dato che oggi sono stata in grado di recuperare domani con più energia, con più carica, con un'energia più alta, con un livello di energia più alto. E dall'altro punto di vista una volta che sono riuscita un po' a recuperare il mio livello di energia, il mio tono dell'umore è un po' più alto e diciamo ce l'ho fatta un po' a riprendermi. Quindi una cosa fondamentale da fare il giorno dopo, anche se ahimè magari una persona non ne ha voglia perché dici scusa da una parte mi dici che non ci devo più pensare, che oggi è un nuovo giorno, poi dopo, è quando vi siete riprese tocca ripensare a quella situazione. Perché? Perché dobbiamo sforzarci di capire qual è stato il fattore scatenante per far sì che la volta dopo riusciremo ad affrontare meglio la situazione. E questo lo possiamo fare o con l'aiuto di qualcuno che è in grado di capirci, oppure da sole. Se decidiamo di farlo con l'aiuto di qualcuno, dobbiamo essere quasi certe che quel qualcuno sia in grado di comprendere. Perché capire quello che prova una persona che ha un disturbo del comportamento alimentare non è da tutti. Ci vuole una certa sensibilità, bisogna aver vissuto certe cose, oppure aver studiato comunque la materia. Perché magari per una persona che non l'ha mai vissuto, che non è mai stata a contatto con una persona che ha quel problema lì, può essere difficile. E magari parlarne con una persona che non è in grado di capire può essere controproducente. Ma non è colpa della persona che non capisce. È solo che è un qualcosa di complesso. Quindi se magari avete un partner, che comunque sapete che anche se glielo spiegherete, non capirà, ma non per colpa sua, ma semplicemente perché magari nella vita ha fatto altro, è sempre stato a contatto con persone che quella roba lì non l'hanno neanche vista lontanamente, e quindi non è in grado. Allora, in quel caso lì, se sapete già in partenza che la persona che avete a disposizione magari non è in grado di capire il problema, è meglio farlo da sola questo ragionamento, altrimenti rischiate di peggiorare la situazione o di parlare senza arrivare a niente. e quindi quando avete capito se parlarne appunto con qualcuno, che può essere un'amica, magari avete anche un'amica che sapete che vi capisce, non dico che per forza deve essere il partner, allora dovete cercare appunto di capire qual è stato il trigger, il fattore scatenante, che magari può essere stata una situazione stressante oppure una particolare emozione oppure il fatto che a livello fisico semplicemente avevate fame, perché poi anche quando si passa tutta la giornata a restringere è più facile essere a rischio di una tentazione di abbuffata, perché quando si fa la fame in quel caso anche una cosa che normalmente non mi farebbe scattare quella cosa lì, in quel caso sì, perché avete le difese più basse, state facendo la fame e quindi è più alta la probabilità che scatti. Quindi in quel caso lì, se magari capite che è stata solo la fame e non è stato qualcos'altro, allora lì in quel caso una possibile soluzione potrebbe essere cosa potrei aggiungere di affrontabile, cioè non dico voi magari non mangiate mai la pasta, mangiatevi un piatto di pasta, assolutamente no, ma cosa potrebbe essere una cosa piccola che non mi crea chissà quali problemi, quindi una cosa piccola che voi sapete che riuscireste ad accettarla, ad affrontarla bene, che potrei mangiare in maniera tale che poi non mi venga la tentazione di abbuffarmi perché non vado così in down a livello proprio fisiologico, per esempio non so, magari un dattero, il dattero è piccolino, è calorico, però è anche piccolino, vi siete spaventate da un dattero intero, metà dattero oppure qualsiasi cosa, una fetta di mela, perché poi io lo so che le persone che controllano molto ciò che mangiano hanno delle paranoie anche per delle cose veramente che non sono ingrassanti o che altro, quindi per quello sto facendo degli esempi di cose piccole perché so che quel tipo di persone lì fanno una fatica esorbitante anche solo ad introdurre una cosa piccola, quindi una volta che avete capito quale può essere un alimento che voi riuscireste a mangiare allora poi cercate appunto di mangiarlo così che non facciate così tanto la fame da portarvi ad abbuffarvi e poi buttare e se invece magari è stata un'emozione per esempio dovete innanzitutto identificarla cioè che emozione era quindi non lo so tristezza rabbia senso di colpa paura e bisogna iniziare a viverle queste emozioni bisogna permettersi di vivere quelle emozioni lo so che magari siete abituati da tanti anni a trascurarle e quando solo sentite che potrebbe che sta arrivando magari la tristezza o la rabbia dite no no meglio diventare un'automa magari davanti alla tv e anzi oh molto bene adesso che mi sto per arrabbiare rispetto a questa situazione adesso mi abbuffo e vomito me lo merito perché tanto col cavolo che vivo la rabbia e solo che la rabbia è lì per essere vissuta quindi bisogna cercare piano piano di permettersi di vivere queste emozioni è importantissimo oppure per esempio il senso di colpa che non è che va tanto in là dalla rabbia perché il senso di colpa è un'associazione diciamo della tristezza più la rabbia e il fattore scatenante universale della rabbia è un qualcosa che si frappone che fa da ostacolo tra te e il tuo obiettivo quindi dovreste chiedervi qual è il mio obiettivo e qual è stato l'ostacolo per identificare proprio cos'è che ha scatenato ha scatenato la buffata così che poi magari la volta dopo potete mettere in atto delle situazioni potete mettere in atto delle strategie che vi aiutano a a superare la situazione se è il caso dell'emozione cercate di viverla poi magari la prima volta la vivete un po' vivete l'esperienza e poi dopo l'abbuffata magari la fate lo stesso però poi gradualmente prima o poi arriverà il momento in cui riuscirete ad evitarla per esempio nel caso della paura nel caso della paura capita a volte che avvengano appunto questi pensieri del tipo se riprendo subito a lavorare magari i miei figli si sentiranno trascurati oppure se non seguo la carriera di mio padre lui penserà che sono un fallito potrei seguire la mia passione ma se poi dopo non guadagno abbastanza ecco quando si seguono cioè quando si prendono decisioni guidati dalla paura si prendono delle decisioni che non che non sono che non seguono ciò che vogliamo veramente dalla nostra vita anzi vengono prese proprio in base a quello che non vogliamo e a quello che vorremmo evitare e questo tradisce la nostra vera essenza la nostra anima e il fatto è che i guariti dalla malattia sono quelli che hanno avuto la scaltrezza di di non compiacere più gli altri che sono stati abbastanza furbi da dire bene adesso la posta in gioco è troppo alta io non voglio più passare la mia vita a compiacere gli altri ma finalmente voglio provare di rimuovere la paura e di seguire veramente quello che voglio fare se si guardano le cose da questo punto di vista la malattia libera la malattia non è più malattia in quel senso di ma libera la propria anima e questa liberazione può essere veramente illuminante cioè permettersi di seguire la propria aspirazione e spero che questi consigli possano essere utili a qualcuno che appunto è alle prese con abbuffate e vomito autoindotto e ci vediamo al prossimo video un bacione ciao